ben trovati a tutti oggi eh parleremo dell'ammissibilità della spesa nella programmazione duemilaventuno duemilaventisette cercando di esaminare tutti i diversi aspetti che regolano appunto i costi ammissibili sulla nuovo nel nuovo periodo di programmazione. Parlando di ammissibilità della spesa in realtà deve essere eh esaminata sotto diversi aspetti. ossia l'ammissibilità della spesa è sì determinata sulla base di quanto stabiliscono le norme e regolamenti ma in realtà affinché una spesa sia ammissibile è necessario verificare che la stessa sia coerente rispetto al fondo che la sta finanziando e quindi oggi parleremo di FSE plus e quindi vedremo quali sono gli ambiti di eh ammissibilità della spesa all'interno dell'FSE plus. Della spesa, l'operazione deve essere ammissibile rispetto al programma che lo sta finanziando e quindi oggi parleremo del PR FSE ventuno ventisette della regione siciliana. Rispetto alla normativa di riferimento ai criteri di selezione approvati dal comitato di sorveglianza e quindi rispetto poi a le regole che si è dotato il programma affinché una spesa sia ammissibile. Infine rispetto al dispositivo attuativo perché è il l'avviso che determina poi quelle che sono le regole puntuali affinché una spesa sia considerata ammissibile e infine rispetto alla normativa di eh riferimento. Parlando di ammissibilità della spesa rispetto al fondo eh parliamo di fondo sociale o reo plus e eh il ehm l'obiettivo principale di questo fondo è quello di eh sostenere gli stati membri eh e le regioni per conseguire livelli di occupazione e protezione sociale e eque e una forza di lavoro qualificata e resiliente pronta per il mondo del lavoro e per il futuro. Quindi l'FSE plus interviene essenzialmente come supporto al eh alla persona finalizzata all'occupazione all'occupa occupabilità e quindi alla formazione e in più soprattutto nella programmazione ventuno ventisette l'FSE plus interviene su tutti quelli che sono i temi del eh protezione sociale e inclusione eh sociale. Il eh FESR invece di cui non parleremo oggi è quel fondo che è maggiormente finalizzato invece a interventi rivolti a infrastrutture e aiuti alle imprese in particolare le piccole e medie imprese. Quindi il FESR è un fondo che interviene interviene principalmente su investimenti di tipo materiale mentre invece l'FSE plus è il fondo che interviene principalmente su interventi immateriali appunto rivolti alla persona e all'occupabilità della persona. Il eh i due fondi diciamo nella programmazione ventuno ventisette eh intervengono rispettivamente l'FSE plus in termini di temi di occupazione, mobilità dei lavoratori, istruzione, formazione e competenze e inclusione e protezione sociali che quindi sono diciamo i tre macro ambiti nei quali interviene l'FSE plus mentre invece il FESR come abbiamo detto appunto interviene in ambiti di investimenti in materiali, di infrastrutture, in ricerca, in accesso a servizi, interventi produttivi nelle piccole e medie imprese, acquisto di tutto quello che sono attrezzature, software, attività e materiali per eh le imprese, creazione di reti e cooperazione e infine tutta attività di trasversale di informazione, comunicazione, studi e assistenza eh tecnica. Nella programmazione ancora per contestualizzare la spesa all'interno della programmazione ventuno ventisette è necessario tenere presente che la programmazione ventuno ventisette è concentrata su cinque obiettivi strategici di cui l'obiettivo quattro è quello su cui interviene il Fondo Sociale Europeo Plus che è un'Europa più sociale e inclusiva e in particolare come abbiamo visto nella slide precedente gli ambiti di intervento all'interno dell'obiettivo quattro sono quelli dell'occupazione, quelli della eh della dell'istruzione e della formazione e quelli dell'inclusione sociale. In particolare l'FSE Plus interviene in eh tre ambiti eh specifici che sono quelli dell'occupazione, dell' istruzione, la formazione e competenze e dell'inclusione e della protezione sociale. Per quanto riguarda l'occupazione sono quattro gli obiettivi specifici nei quali interviene l'FSE Plus e interviene il programma della regione siciliana che sono tutti quegli interventi finalizzati a favorire l'accesso all'occupazione, tutti quelli che possono riguardare attività di incentivi all'occupazione o comunque che facilitano l'accesso all'occupazione, interventi invece che vanno più a livello di sistema, quindi sulle istituzioni, sui servizi del mercato del lavoro, quindi sulla eh sul mondo dell'offerta diciamo del eh del lavoro per cercare di stimolare appunto l'assorbimento occupazionale, interventi che riguardano la partecipazione equilibrata al mercato del lavoro, quindi per cercare di garantire una parità di accesso al mercato del lavoro e infine ad interventi rivolti all'adattamento dei lavoratori per cercare di rendere diciamo eh compatibili le competenze dei lavoratori rispetto a l'esigenza del mercato del eh del lavoro. Il secondo abito di intervento invece è quello che riguarda più l'istruzione, la formazione, le competenze e qui si eh sono previsti interventi finalizzati a eh facilizzare, facilizzare, migliorare diciamo la eh attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione, di formazione, quindi andando a operare su quelle che sono l'offerta dell'istruzione per cercare di renderla diciamo più eh in linea con quelli che sono i fabbisogni poi anche del mercato e su questo si evidenzia come nella programmazione ventuno ventisette questa istruzione riguarda tutto l'arco della vita del eh della persona quindi dall'asilo nido fino alla formazione superiore e alla formazione continua quindi accompagnando tutto il processo lavorativo della eh persona gli interventi rivolti al a facilitare la parità di accesso e di completamento dell'istruzione proprio per cercare di eh colmare quel gap eh soprattutto eh esteso in Italia di eh poche competenze diciamo poche persone diciamo che raggiungono livelli di formazione superiori e poi interventi di apprendimento permanente durante tutto l'arco della vita che sono invece finalizzati proprio a cercare di mantenere aggiornate le competenze dei lavoratori per poterle poi spendere sul eh sul mercato del lavoro e quindi evitare la fuoriuscita del mercato del lavoro. Terzo ambito di intervento che è quello sul quale diciamo interviene fortemente la programmazione ventuno ventisette con più di un quarto delle risorse destinate riguarda invece il tema dell'inclusione e della protezione sociale in particolare con interventi di inclusione attiva quindi finalizzati appunto a eh garantire l'inclusione di tutte le persone anche le più svantaggiate eh al mondo sia dell'istruzione che della formazione ma anche all'accesso dei servizi di eh di base l'accesso eh paritario e tempestivo a servizi di qualità e questi sono i due ambiti particolari nei quali interviene il PR della regione siciliana e poi abbiamo quegli interventi che invece sono rivolti alla deprivazione materiale e all'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà per i quali interviene un apposito programma finanziato a livello nazionale e invece interventi di integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi e di comunità emarginate dove anche qui si interviene maggiormente con eh finanziamenti a livello eh nazionale scusami Michele solo prego la approfittavo solo per mettere in evidenza che quello che sta rappresentando Michele stiamo parlando di ammissibilità della spesa quindi perché è importante capire perché l'operazione deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici altrimenti l'operazione nel suo insieme non è ammissibile al programma quindi in questo caso stiamo vedendo la coerenza dell'operazione stessa che deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici altrimenti non si va proprio a vedere la spesa perché in quel caso la spesa ovviamente non sarebbe ammissibile perché l'operazione nel suo insieme eh non è ammissibile per questo una massima attenzione su costruire delle operazioni quindi dei progetti che siano strettamente correlati a quelli che sono gli obiettivi specifici dei fondi e quelli che sono appunto stati selezionati nell'ambito del programma FSE della regione siciliana quindi tutto quello che direà oggi appunto Michele Nicolai e e su cui interverò io è proprio per mettere in evidenza la lettura di quello che stiamo vedendo rispetto ai diversi eh contesti di riferimento ai fini di determinare l'ammissibilità della spesa che è l'ultimo pezzo che si va a vedere perché tutto si va all'inizio si va a verificare la possibilità dell'operazione nel suo insieme quindi voglio solo integrare e specificare eh questo aspetto grazie Lorenzo quindi è importante andare a analizzare come in realtà questo contesto di riferimento che sono gli obiettivi nei quali i fondi ventuno ventisette intervengono poi vengono declinati all'interno del PR della regione siciliana dove per ogni priorità sono associati gli obiettivi strategici e gli obiettivi specifici e gli indicatori e quindi in qualche modo vanno a giustificare l'ammissibilità del progetto rispetto a un eh programma che lo finanzia che costituisce ovviamente l'ulteriore anello fondamentale affinché poi una spesa quindi un progetto possa essere considerato ammissibile. I regolamenti e quello che abbiamo visto fino adesso definiscono gli ambiti nei quali intervengono i fondi strutturali in particolare l'FSI nel ventuno ventisette dopodiché chiaramente la regione siciliana con il proprio programma è andata a declinare ulteriormente quelli che sono gli ambiti di eh riferimento nei quali si eh interviene. Ulteriore quindi il contesto di riferimento è quello che abbiamo detto chiaramente l'ulteriore elemento di riferimento è dato dal l'avviso che va a finanziare l'operazione e quindi la regione nell'emanare i propri avvisi andrà ovviamente a ricondurre l'intervento rispetto a l'obiettivo rispetto alla priorità rispetto a eh quanto previsto dal programma eh di riferimento ma poi il eh l'avviso di riferimento sarà quel documento che va a declinare e definire in maniera puntuale quelli che sono le regole di ammissibilità della spesa rispetto a quell'operazione e questo è un ulteriore tassello che deve essere sempre preso in considerazione perché al di là del fatto che una spesa un'attività può essere ammissibile ai sensi della normativa può diventare non ammissibile nel momento in cui l'avviso non la prevede come spesa ammissibile. Parlando di ammissibilità della spesa ovviamente bisogna sempre tenere conto di quella che è la c'è delle fonti quindi delle previsioni dei regolamenti delle specifiche previste della normativa nazionale e delle specifiche previste della normativa regionale programmazione regolamenti nella nuova programmazione è il regolamento duemilaventuno mille sessanta che stabilisce le regole generali di ammissibilità della spesa mentre il duemilaventuno mille cinquantasette quello che definisce le regole generali per l'fse plus per quanto riguarda la normativa nazionale per il momento è in vigore il vecchio dpr il ventidue l'umila diciotto che è quello che tiene conto diciamo della programmazione precedente ma che finché non sarà approvato la nuova normativa nazionale dovrà essere utilizzata anche per la programmazione ventuno ventisette per l'avvio e poi ovviamente è sempre importante tenere conto di quelle che sono le indicazioni contenute nella normativa specifica quindi aiuti di stato piuttosto che normativa di settore che può definire determinati ulteriori adempimenti che devono essere rispettati si pensa ad esempio l'accreditamento o altre cose entrando nello specifico della regola dell'admissibilità della spesa per quanto riguarda il quanto stabilito dalla normativa europea la prima informazione che il regolamento ci dice è che le regole sull'admissibilità della spesa sono stabilite in base a regole nazionali salvo quanto stabilito dal regolamento quindi di fatto i regolamenti danno alcune indicazioni ma poi è la norma nazionale o regionale che stabilisce in maniera più puntuale quelle che sono le regole che devono essere rispettate indicazione importante da sapere è che sulla programmazione ventuno ventisette il periodo di ammissibilità della spesa è primo gennaio duemilaventuno trentuno dicembre duemilaventine questo chiaramente il periodo di ammissibilità della spesa per il programma un progetto sarà finanziato all'interno di un avviso e avrà invece un periodo chiaramente circoscritto di ammissibilità della spesa cosa importanti da sapere è che la spesa diventa ammissibile in caso di modifica di un programma soltanto dopo che questo programma è stato modificato e invece nella nuovi regolamenti è possibile ricomprendere delle spese che sono finalizzate a rispondere a catastrofi naturali dal momento in cui la catastrofe eventualmente si è verificata. Novità rispetto alla precedente priori programmazione riguarda la territorialità della spesa infatti in questa programmazione la cosa fondamentale è quello che è l'impatto quello che è il ritorno del finanziamento sul territorio di riferimento per cui non vi è un obbligo a livello di regolamento quindi poi l'avviso che lo stabilisce di realizzare l'attività interamente sul territorio regionale ma vi è un obbligo che il l'impatto il risultato di questo il di questo progetto che viene finanziato abbia una ricaduta sul territorio regionale quindi posso tranquillamente finanziare la partecipazione a dei master o a una alta formazione fatta anche fuori regione o anche all'estero l'importante ovviamente che i destinatari siano destinatari residenti nella regione siciliana o che comunque sono finalizzati con un programma di rientro a portare un contributo alla regione siciliana e questo diciamo è l'ambito sui quali devono essenzialmente intervenire e che devono essere oggetto di controllo. Ulteriore elemento importante da considerare è quelli che sono i pochi principi che il regolamento stabilisce per quanto riguarda le spese ammissibili e in particolare in continuità con la programmazione precedente non sono ammissibili gli interessi passivi tranne casi particolari di strumenti di ingegneria finanziaria non è possibile l'acquisto di terreni sul FESRE è possibile soltanto in percentuali molto limitate. L'IVA è una tematica che come sappiamo è sempre abbastanza complicata. Normalmente diciamo le operazioni dell'FSE sono tutte operazioni che lavorano fuori campo IVA quindi il problema non si pone. Da un punto di vista regolamentale il regolamento 21-27 fa una distinzione ossia mentre sulle operazioni di cui valore è superiore a 5 milioni di euro quindi molto difficile per l'FSE affinché l'IVA sia ammissibile e necessario che venga dimostrata che non sia recuperabile da parte del beneficiario mentre invece per le operazioni sotto i 5 milioni di euro questa necessità di dimostrazione non è richiesta dal regolamento. Dopodiché attenzione perché sarà la normativa nazionale e forse regionale che andrà poi a definire eventuali ulteriori dettagli di applicabilità per quanto riguarda l'IVA. Scusami solo un' integrazione riguarda l'IVA che può essere utile nel senso come dicevi prima per la gerarchia delle fronte nessuna norma nazionale può contrastare il regolamento quindi non c'è nessuna norma che sia un DPR o che sia una disposizione regionale che può dire che l'IVA per importi inferiori a 5 milioni di euro non è ammissibile se non non recuperabile perché andrebbe in contrasto con le disposizioni regolamentari quindi su questo nell'ambito del gruppo di lavoro che si sta occupando della predisposizione del nuovo DPR per il periodo di ammissibilità 2127 in quella sede si troveranno si auspica si possano trovare delle soluzioni per tenere conto delle diverse gerarchie delle fonti e quindi l'interpretazione di quello che riguarda appunto l'ammissibilità dell'IVA questo ovviamente verrà risolto in quella sede a livello nazionale non può essere diversamente. Grazie Lorenzo corretto diciamo una tematica appunto molto delicata per cui insomma rimandiamo poi ad ulteriori e necessari approfondimenti. Invece ancora diciamo le ultime indicazioni per quanto riguarda i costi ammissibili continuano a non essere ammissibili l'acquisto di terreni, beni immobili e infrastrutture per quanto riguarda le FSA e PLAS mentre invece sono ammissibili per quanto riguarda il FES e invece novità importante rispetto alla programmazione precedente che l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli non è una spesa ammissibile tranne qualora l'acquisto è necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione o qualora tali voci siano completamente ammortizzate o infine qualora è più economico acquistare piuttosto che utilizzare altre forme di utilizzo di questi beni. Ripeto questa non è una scelta del beneficiario ma sarà il la regione coi propri provvedimenti eventualmente il beneficiario che dovrà dimostrare che effettivamente l'acquisto di un'attrezzatura è fondamentale funzionale a raggiungere gli obiettivi del progetto e quindi a quel punto potrebbe diventare una spesa ammissibile però diciamo c'è una riduzione una definizione una maggiore rigidità diciamo rispetto alla precedente programmazione. Laddove anche se sono pochi casi i programmi o i progetti prevedono una cofinanziamento i regolamenti prevedono la possibilità che venga erogato un cofinanziamento in natura quindi non con un apporto finanziario ma con un apporto di prestazioni ma questo deve essere chiaramente definito dal regolamento stesso. Per quanto riguarda ulteriore vincolo a prendere in considerazione è quello che riguarda la stabilità delle operazioni e in particolare visto che gli interventi finanziati dall'FSI plus non prevedono interventi di tipo investimenti produttivi investimenti infrastrutture vale la regola invece che vi è un obbligo di restituzione dell'importo solo e soltanto se non è rispettato un mantenimento di stabilità di un'operazione stabilita dalle regole del degli aiuti di Stato. Quindi ad esempio nel caso di incentivi all'occupazione incentivi alle imprese o altro è la regola sugli aiuti di Stato che può stabilire un periodo di mantenimento dell'investimento che farebbe rendere viceversa non ammissibile l'operazione quindi con un obbligo di restituzione. Parlando di forme di finanziamento delle operazioni in continuità con la programmazione precedente i progetti possono essere finanziati o a costi reali quindi andrò a rimborsare quelli che sono i costi che sono stati effettivamente sostenuti laddove sono ammissibili oppure è possibile utilizzare delle forme di semplificazione che sono quelle di utilizzo di costi unitari somme forfettarie dei finanziamenti a tasso fisso una combinazione di queste tre opzioni o dei finanziamenti non collegati ai costi. Costo standard che cos'è? Costo standard è la definizione di un parametro calcolato come valore medio che rappresenta la migliore approssimazione del costo che è sostenuto per attuare un'operazione ad esempio il costo standard definito per un'ora di formazione normalmente quel costo standard di 129 euro che è stato utilizzato anche precedentemente per la programmazione 1420 nella regione siciliana. Quel costo viene dato per ogni ora di formazione regolarmente erogata. A livello di applicazione del costo standard è possibile poi prevedere che questo costo sia in parte erogato in funzione del processo e in parte a risultato e quindi è possibile da un punto di vista regolamentale così come è stato fatto ad esempio sul programma garanzia giovani della programmazione 1420 prevedere riconoscimento di una parte di questo costo standard per le ore di formazione erogate e un'ulteriore parte di costo standard invece finalizzato a la occupabilità anzi all'occupazione di una parte delle persone che hanno partecipato al processo di formazione. Il ulteriore opzione di semplificazione dei costi è quella delle somme forfettarie in questo caso è previsto un importo x che è riconosciuto per fare un'attività y l'importo è predefinito da parte dell'autorità di gestione chiaramente in questo caso si tratta di nozione on off il che vuol dire che o io realizzo e raggiungo effettivamente le attività che dovevo fare o viceversa diciamo non avrò nessun tipo di riconoscimento quindi viene erogato un importo previsto un importo di 1000 euro per fare un seminario finale se io faccio il seminario finale con i partecipanti minimi previsti e con le caratteristiche previste avrò il riconoscimento di questo importo viceversa diciamo non avrò nessun riconoscimento di importo. Una cosa importante da sapere è che nella programmazione 21 27 vi è un obbligo da parte dell'autorità di gestione di utilizzare le opzioni di costo semplificate per tutte quelle operazioni di costo inferiore alle 200 mila euro per cui diciamo troverete sicuramente un maggiore ricorso ai costi semplificati nella programmazione 21 27. Costi semplificati che affinché possono essere utilizzati l'autorità di gestione dovrà andarli a quantificare attraverso appositi metodi statistici o utilizzando diciamo dei dei costi che sono già stati approvati e presi e utilizzati su altre politiche dell'unione o sui meccanismi nazionali che quindi in qualche modo possono essere poi applicati al contesto di riferimento chiaramente sempre l'autorità e gestione che definisce l'avviso che stabilisce quelle che sono questi costi semplificati. A livello regolamentale sono previste alcune opzioni di semplificazione del costo ulteriori che sono quelle di forfettaria di tasso forfettario per quanto riguarda i costi indiretti e questi possono essere calcolati fino al 7 per cento dei costi diretti eh ammissibili o fino al 15 per cento dei costi diretti ammissibili per il personale e in questo caso diciamo l'autorità di gestione li può applicare senza ulteriori eh indagini oppure può prevedere dei costi indiretti fino al 25 per cento dei costi diretti ammissibili ma in questo caso l'autorità di gestione dovrà andare a eh argomentare e spiegare il metro di calcolo che ha utilizzato per determinare questi costi semplificati. Solo scusami solo una piccola integrazione rispetto alla slide precedente perché mentre il regolamento parla fino al è evidente che l'autorità di gestione non può lasciare diciamo arbitrarietà e discrezionalità l'autorità di gestione dovrà stabilire avviso per avviso qual è l'importo riconosciuto forfettario che sarà il 15 per cento quindi non fino al sarà il 13 per cento è quello che c'è quindi è il beneficiario che dovrà adeguarsi a quelle che sono le state le scelte dell'autorità di gestione perché rispetto a quello dovrà applicarsi. Un'ultima considerazione è che il costo standard così come previsto da dal dispositivo attuativo quindi dall'avviso, dal bademecum eccetera va applicato necessariamente quel costo standard e non si possono utilizzare forme mix miste tra diverse cose standard se questi non sono espressamente previsti dall'avviso quindi massima attenzione ripeto a quello che è l'avviso specifico che disciplina e la scelta che ha operato e l'autorità di gestione o l'organismo intermedio nell'ambito di quella tipologia di operazione. Grazie Lorenzo. Un'altra opzione importante di semplificazione è quella che prevede la possibilità invece di standardizzare, prevedere un tasso forfettario per la quantificazione dei costi del personale e in particolare i costi del personale possono essere determinati con un importo fino al venti per cento degli altri costi, il che vuol dire che in questo caso verrebbero rendi contate costi reali gli altri costi, mentre invece i costi del personale verrebbero riconosciuti semplicemente con questo tasso fino al venti per cento dei degli altri costi. Ulteriore indicazione diciamo utile ma controversa per quanto riguarda il costo del personale e la modalità di calcolo del costo del costo orario nel caso in cui il costo del personale debba essere rendi contato a costo reale e in questo caso il regolamento prevede la possibilità che senza che si debba dimostrare quelle che sono le ore lavorabili in un anno da parte di un lavoratore il costo del personale possa essere calcolato dividendo per 1720 ore il costo anno del lavoratore. È chiaro che questo è utilizzabile nel caso in cui si tratta di un contratto diciamo a 40 ore settimanali mentre invece sul contratto della formazione dove le ore settimanali sono inferiori in realtà questa semplificazione diciamo non è direttamente applicabile. Ulteriore informazione diciamo interessante da conoscere è il fatto che a livello di regolamento ma questo poi dovrà trovare applicazione nei dispositivi attuativi laddove una persona dovesse lavorare o a tempo pieno o a tempo parziale ma con un tempo fisso su un progetto potrebbe diciamo dare evidenza del costo del tempo utilizzato sul progetto senza la necessità di documentare l'attività con un apposito timesheet però diciamo normalmente invece sui progetti le persone non lavorano a tempo pieno e comunque normalmente i dispositivi attuativi prevedono la presentazione di un timesheet e quindi non sempre questa semplificazione può essere applicata. Ultimo elemento di semplificazione riguarda invece la possibilità di riconoscere con un tasso forfettario tutti gli altri costi diversi da costi del personale calcolando come l'importo sul totale dei costi del personale il che vuol dire che su un progetto io andrò a rendicontare unicamente i costi del personale e per poter coprire tutti i restanti costi dovrò andare a ricomprendere diciamo saranno quantificati con questo importo fino al 40 per cento che essendo un tasso forfettario non deve essere giustificato. Direi che con questo abbiamo concluso diciamo una rapida carrellata su quelli che sono i principali elementi per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa è chiaro che poi il vademecum che dovrà essere predisposto sul programma FSE Plus della regione siciliana così come anche la nuova normativa nazionale potrà andare a definire e dettagliare ulteriormente quelli che sono i vincoli potrà stabilire così come fatto nella programmazione 14 20 anche dei massimali che devono essere rispettati e quindi chiaramente anche questi elementi dovranno essere presi in considerazione nel momento in cui si parla dell'ammissibilità della spesa. Ma la cosa fondamentale è avere sempre chiaro che un progetto finanziato su un programma come quello della regione siciliana deve trovare la sua legittimità e la sua ammissibilità non soltanto rispetto alla singola voce di costo che deve essere ammissibile ma anche rispetto alla sua finalizzazione del progetto che deve rispondere a quelli che sono appunto gli obiettivi del programma. vi ringraziamo, ringrazio Lorenzo Improta che è stato oggi con noi e vi auguriamo buona giornata. Buona giornata.